amici youtube sono pepino audace ragazzi riprendiamo con warzone oggi facciamo una facciamo una nuova game ragazzi potremmo fare magari anche qualche live su fifa carriera allenatore o magari anche possiamo provare a fare la proprio lei la in game le br singolo vediamo se oggi va meglio ragazzi oggi sono andato un po più sul sul tranquillo cosa arrivano dei nemici attenzione in alto mamma mia spadroneggia di brutto sto ma vorrei e bravo anche a fare per l'attore c'è un puntatore diverso che il giocistico auto in 3 minuti quando il tasto proiettori abbiamo il via libera al cuore sony aspetta prendete le vostre cose 3 minuti al decollo le regole sono semplici fuoco su qualsiasi minaccia battle royale ci siamo per questo battle royale vediamo dove possiamo andare a corsare oggi uh lancio di equipaggiamento ragazzi ma ma però non si capisce dove mettono il lancio anche più che altro perché dov'è il lancio voglio capire dov'è il lancio che va a corsare a ferrovia vorrei che qua dentro troviamo qualcuno ma è bello di crossare puntatore subito laser ragazzi è strano ci subito ma schiaranti gas no però attenzione la strano la strano Oh. Grazie a tutti. 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 vediamo. molto meglio. curdo. a tutti. a tutti. sono gli altri. ok. live on. YouTube. mamma mia. mamma mia. ragazzi a tutti. ce n'è qua. a tutti. no. ragazzi. la super mossa. mi ha fatto. è arrivato. da dietro. bastardo. è arrivato. da dietro. in azione dacci dentro io se riesco a prendere qui ma la serie al camion ma va bene assurdo va bene assurdo vabbè ma assurdo ragazzi sono sceso nel punto più in merda possibile erano in due ma era impossibile che mi rifacessi entrambi tutti i compagni sono nella zona sicura preparati per rientrare ok dobbiamo vedere dove sono gli altri ok dobbiamo provare a crossare qui compagno tornato in campo ben fatto è lì proprio 25 unità ancora attive no safe 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 assurdo morto morto ma però un dicesimo rifornitevi e tornate in azione allora un quartetto ritorno sta per finire mi raccomando no 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 ok ora ragazzi io ho concludere quale episodio diamo giochi di prestigio oh attenzione l'arma nuova abbiamo sbloccato variato livello 5 ci sto quindi ragazzi concludo qua l'episodio seguite il canale pepino audace